In occasione della giornata della memoria si ricorda quello che è stato il campo di internamento Ferramonti di Tarzia e all'onorevole Bruno Bossio chiediamo appunto un ricordo di quello che è stata una ferita in terra di Calabria. Ma ogni anno io sono stata anche l'anno scorso anche negli anni precedenti in cui non ero parlamentare in questo campo di internamento poco conosciuto in verità c'è in occasione della giornata della memoria il ricordo di quei protagonisti purtroppo di un momento terribile della vita italiana ma purtroppo a livello internazionale perché l'olocausto è stata una grande tragedia mondiale. Certo il campo di internamento di Tarzia non è Auschwitz non sono i lager ma comunque un luogo dove tanti cittadini hanno perso sono stati privati della loro libertà solo avendo la colpa di essere ebrei e quindi è comunque un'occasione per ricordare ancora oggi magari non solo verso gli ebrei ma verso tutti quei popoli oggi profughi, perseguitati, combattuti solo perché di diversa razza e religione che la tolleranza e l'accoglienza è invece l'unica prospettiva che il mondo, il futuro si deve dare.